Oggi abbiamo avuto un incontro con il rappresentante del Parlamento e con il Ministro Urso per ribadire che c'è questa necessità di aggiornarla, modificarla in alcuni aspetti perché l'impianto c'è, perché sono passati tanti anni, il contesto economico è cambiato, la specificità dell'artigianato è assolutamente necessaria ma va contestualizzata in quello che avviene oggi a differenza di com'era l'economia 40 anni fa. Crediamo che la proposta del tavolo di confronto che abbiamo messo in campo ci possa aiutare e delineare anche bene l'azione che deve fare per alcuni aspetti il Governo centrale rispetto alle competenze che sono state affidate alla Regione. Quindi è un ragionamento di coordinamento rispetto alle azioni. Noi abbiamo bisogno di trovare livelli di uniformità, cioè per mettere in piedi un'impresa artigiana deve essere uguale sia in Friuli e Venezia Giulia che in Sicilia, non possono esserci queste differenze che spesso e volentieri troviamo. Confidiamo, il Governo ha speso parole positive, che ci siano le condizioni per aggiornarle e con questo affrontare anche il tema di natura economica per il nostro Paese. Aggiungo una cosa, noi abbiamo posto questa specificità, è importante, la fotografia del Paese ci dice che il nostro Paese è fatto di economia di piccole imprese. Le azioni e i provvedimenti devono tener conto di questa cosa, non tararle solo sulle grandi imprese, perché se no l'effetto è distorsivo e negativo, non diamo un contributo al Paese, non è una rivendicazione, noi vogliamo stare con tutti, rimarchiamo l'importanza della grande impresa, però la gran parte è fatta di piccole imprese e ha delle sue caratteristiche che vanno considerate. Grazie a tutti.